Allora, terminato il primo tempo qui a Itali con una dita di risultato parziale 1-0 per l'Itali Calcio grazie a un bel gol di Avallone, l'ultimo giocatore arrivato in casa Italia. Ne parliamo con Lito Coppola che sta commentando per telegolfo la gara tra Itali e Gaeta. Ti chiedo un commento su questo match, mi sembra che la partita l'ha fatta il Gaeta però adesso il vantaggio dell'Anitri Calcio. L'Itri è stata innanzitutto buongiorno, l'Itri è stata brava, brava ad approfittare della grande occasione avuta al 39esimo da Avallone l'invenzione di Rossini per Avallone, Avallone con il pallonetto ha punito l'estremo difensore avversario. Per il resto è stato migliore il Gaeta sia da vedere sia dal punto di vista proprio del gioco, del posizionamento in campo dei propri giocatori in gran difficoltà nella prima mezz'ora, poi dopo la rete del vantaggio è chiaro che le motivazioni fanno tanto in questo caso con il Gaeta che ha tirato un po' più i remi in barca e l'Itri che pare abbia avuto più personalità dopo il vantaggio. Direi che ai punti meglio il Gaeta però il risultato è quello che dice il campo, chi l'ha messa dentro è stata l'Itri, l'Itri 1 Gaeta 0. Appuntamento secondo tempo.